Il presidente Marco Marsiglio ha presentato i nuovi direttori generali della ASL di Pescara e di Teramo. Si tratta di Vincenzo Ciamponi e Maurizio Di Giosia. Il primo sarà in servizio dal 20 luglio, il secondo è già in carica. Presenti oltre a Marsiglio e due manager l'assessore regionale della salute Nicoletta Verì e il direttore del dipartimento salute della regione Claudio Damario. Ciamponi, 60 anni, originario della provincia di Pescara, ha svolto gran parte della sua attività professionale lontano dall'Abruzzo accumulando esperienze nella sanità sia pubblica sia privata. Negli ultimi anni in particolare è stato ai vertici di importanti aziende sanitarie pubbliche della regione Lombardia, svolgendo il suo lavoro in ambiti di eccellenza del sistema sanitario nazionale. Prenderà il posto dell'attuale direttore generale facente funzioni Antonio Caponetti. Di Giosia, 59 anni, ha svolto tutta la sua carriera all'interno della ASL di Teramo. Scelto dal compianto Roberto Fagnano come direttore amministrativo, si è trovato a svolgere con efficace e successo le manzioni direttore generale facente funzione il periodo della tempesta Covid. La sua promozione a direttore generale garantisce la continuità di un percorso avviato da tempo.